La qualità è buona, anche se si registra una significativa riduzione della quantità d'uva sulla pianta. Tuttavia restano ingiustificati i prezzi così bassi. E' Confagricoltura Puglia a portare in superficie il problema, sostenendo che nella vendemmia 2024 è in corso una pesante campagna speculativa che minaccia l'intera economia regionale. La tendenza al ribasso dei prezzi di vendita, spiega lente, è dovuta solo in minima parte alla domanda. La causa principale è da ricercare infatti in un fenomeno commerciale. I compratori stanno pagando anche 40 euro al quintale il primitivo. Se questa campagna al ribasso continuerà, i vignaioli non saranno più interessati alla produzione. A pesare non sono solo i fenomeni speculativi, ma anche i fattori climatici. Secondo i dati Istat, nella campagna dello scorso anno, la Puglia ha registrato un calo del 34,2% sulla produzione, risultando tra le regioni più colpite. Un calo significativo è previsto anche per la vendemmia 2024, anche se la percentuale precisa sarà più chiara a fine della stagione. È essenziale contrastare l'abusivismo, afferma Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Puglia, eliminando i vigneti non autorizzati. Ma è solo una delle misure indispensabili per salvare la viticoltura pugliese. Come Confagricoltura propone da anni, conclude, è imprescindibile dotare la regione Puglia di un catasto vitivinicolo.